Estrazione dell'otto e del superenalotto di oggi di seguito i risultati dell'estrazione dell'otto e del superenalotto di martedì 28 novembre 2017, con numeri vincenti, quote e risultati delle singole ruote. Il monte premi per la prima estrazione settimanale, la 142esima da inizio anno è accompagnata da un ricco jackpot da 64,5 milioni di euro, più che sufficiente per trascorrere un felicissimo Natale. Lotto, il 76 su Cagliari da record, arriva a 184 ritardi il 76 sulla ruota di Cagliari si conferma primo nella classifica dei centenari dell'otto manca da ben 185 concorsi, record personale, seguito, dal 42 su Genova che proprio la scorsa estrazione ha sfondato il muro delle 102 estrazioni. Tra i numeri più in ritardo troviamo il 3 su Firenze a 89, il 20 su Bari a 88 e il 56 su Venezia a 86. Per quanto riguarda le combinazioni numeriche segnaliamo il terno in decina sulla nazionale 626.165, quello in cadenza Torino 127.252. Per le serie classiche la figura 1 su Milano manca da 54 concorsi, la cadenza 2 su Torino torna dopo 78, mentre la decina 40 su Genova non si vede da 84 turni. P.U.B.B.L.I.C.I.T.A. Nazionale 393 84 75 26 Bari 26 55 30 41 15 Cagliari 83 44 43 29 37 Firenze 35 65 61 2 47 Genova 57 28 62 59 37 Milano 62 42 56 15 61 2 21 Napoli 55 95 59 59 77 21 8 Palermo 48 34 61 61 55 Roma 81 53 50 27 51 Torino 40 84 38 64 35 Venezia 5 28 52 3 oxen. 3 numeri 278 miliardi e 748 milioni 286 mila 188 jolly 86 stella 80 quote superena l'otto. .6.51.55 vincitori vanno 33.286,10 euro.4.399 vincitori vanno 424,94 euro.316.085 vincitori vanno 31,72 euro.2.277.863 vincitori vanno 5,70 euro. superstar le quote 5 stella 4 stella 1 vincitori vanno 42.494 euro.3 stella 59 vincitori vanno 3.172 euro.2 stella 1.228 vincitori vanno 100 euro.1 stella 8.311 vincitori vanno 10 euro.0 stella 19.220 vincitori vanno 5 euro. ricordiamo che sia l'otto che il superena l'otto sono dei giochi di fortuna. Non esiste nessun metodo matematico o scientifico che garantisca vincite certe. Per tali ragioni non lasciatevi ingannare da pseudo strateghi che regalano numeri pagando. promettendo vincite ad ogni estrazione. Bisogna sempre giocare secondo le proprie possibilità. Mai andare oltre. Il rischio di cadere nel vortice della dipendenza per alcuni soggetti può risultare fatale. Lotto e superena lotto. Le curiosità sapevate che l'ultima vincita oltre i 100 milioni del superena lotto risale al 27 ottobre del 2016. Ad Vibo Valencia sono stati vinti ben 163,5 milioni di euro. L'assenza del numero 53 sulla ruota nazionale è entrato nella storia come il numeri più latitante 186 concorsi. Con i suoi 64 milioni e 500 mila virgola 00 milioni di euro il jackpot del superena lotto del concorso N, 142 è il più alto del mondo in questo periodo. La vincita più alta è l'assurdo jackpot da 177 milioni e 729 mila 43,16, vinto nel 2009 grazie ad un sistema che rese felici 70 nuovi milionari, ai quali toccò una quota di oltre 2 milioni si euro. Inoltre è importante sottolineare come contattoolabe.it non si assume nessuna responsabilità derivante da eventuali errori di scrittura. Per tali ragioni prima di cestinare il vostro tagliando dovete necessariamente controllare le fonti ufficiali quali l'Automatica, Sisal, o l'Agenzia delle Doganne e dei Monopoli. Buona fortuna!